Ciao, benvenuti. Ci sediamo al tappetino con il nostro supporto oppure senza, come preferisci. Incrociamo le gambe comodamente e una volta sistemati, come sempre, prendiamo un respiro profondo per trovare il nostro centro e lasciare tutto il resto fuori. Se mi va, chiudo gli occhi, se mi aiuta a concentrarmi meglio, ruoto bene le spalle indietro, schiena gritta e il mento è richiamato al petto e respiro. La pratica di oggi è dedicata a Imbolc, o più semplicemente quel periodo che è l'apice dell'inverno. Imbolc è tra le celebrazioni più importanti per chi ama seguire ed essere in armonia con i ritmi della natura. Orientativamente è il periodo che riguarda i primi giorni di febbraio. Con Imbolc onoriamo l'elemento fuoco, elemento sacro di trasformazione e purificazione. In questo periodo la natura ci mostra la sua forza e la volontà di rinascita. Lo possiamo vedere ad esempio nei bucaneve, quei fiorellini che spuntano appunto bucando la neve. Grazie. Grazie. Forse non è il caso di accendere un falò in stanza per onorare l'elemento fuoco, ma qualche candela va benissimo. Iniziamo. Se vuoi apri gli occhi oppure mantienili ancora chiusi. Con un ispiro profondo allungo le braccia al cielo, unisco le dita delle mani e lascio solo gli indici fuori. Cali mudra. E ora faccio un inspiro ed un espiro lungo e profondo più che posso in questa posizione. Inspira tutto, magari le spalle si avvicinano alle orecchie ed espira tutto e senti come la colonna si allunga e poi lascio andare le mani al tappetino. ora posso tenere il mattoncino sotto i glutei per malasana. Apro i piedi e le ginocchia più che posso. Se malasana nella mia pratica posso stare senza mattoncino oppure anche tenerlo sotto i talloni in questo modo. Ok, malasana. E ancora intreccio le dita delle mani per cali mudra che questa volta punta in avanti curvando la schiena, allontanando le scapole una dall'altra. Occhio che qui non ho i gomiti che mi aiutano a tenere le ginocchia belle aperte, quindi sta tutto alla forza delle mie gambe, delle anche, quindi attiva tutta quella zona lì. E poi inspiro, porto la mia mudra verso il cielo. Inspiro profondo ed espirando piano piano porto i glutei al tappetino. piedi larghi ai lati del tappeto, mani indietro che mi sostengono, inspiro ed espirando lascio cadere le ginocchia larghe verso destra. Ascolto un attimo, inspiro e torno al centro, espiro e le lascio cadere a sinistra. inspiro e torno al centro, espiro di nuova destra e questa volta porto con me anche il braccio sinistro che forma una mezzaluna che punta verso il cielo. Inspiro e torno al centro, espiro sinistra e continuo con il mio ritmo. Destra, espiro, braccio sinistro su, inspiro centro, espiro sinistra, braccio destro su. e continuo un po' di volta, inspiro centro, espiro ruoto. Ok, ultimo, inspiro e espiro destra e qui mi fermo qualche respiro portando la mano sinistra vicino alla destra sul tappetino. Ascolto un attimo qui. Esprimo un attimo qui. Espiro. Esprimo, svuoto tutto e inspirando attorno al centro e ultimo dall'altra parte, sinistra e mano destra giù vicino alla sinistra. Ascolto, inspiro, espiro tutto quanto e ispirando ritorno al centro. Mi riporto in malasana in cima al tappetino, un respiro di passaggio e poi espirando porto le mani a terra e distendo lentamente le ginocchia, le gambe e porto i piedi paralleli. Uttanasana morbido, abbandonato, peso sulle punte dei piedi, espiro tutto, inspiro, distendo la colonna, distendo le gambe, sguardo in mezzo alle mani, e espiro di nuovo tutto giù e questa volta, ispirando, vengo su, snocciolando una vertebra dopo l'altra. La testa è l'ultima che sale. Ruoto le spalle indietro, apro il petto e lascio andare dalla bocca e espiro. Ascolto un attimo e poi inspiro, braccia su, unisco le mani, sguardo su, espiro giù, thanasana, fronte e ginocchio. In, distendo, arda utanasana, es, piede destro dietro, sinistro dietro, posizione della tavola. Inspiro, con o senza le ginocchia, espirando, scendo al tappetino, gomiti stretti. Inspiro, piccolo cobra, espiro giù, fronte al tappetino, mi premo sulle mani, sulle ginocchia e sulle punte dei piedi, per cane a faccia in giù, espirando, pedalo la posizione, prendo confidenza, è il mio primo cane a faccia in giù. Spiro, ancora un respiro lungo e profondo qui. E poi con due o più passi vengo sulla punta dei piedi e mi porto in cima al tappetino, espirando. Inspiro, distendo, arda utanasana, espiro fronte e ginocchia, utanasana, inspiro tutto su, urvastasana, espiro grande cerchio con le mani, con le braccia e le unisco al cuore. Ascolto un attimo qui. E ancora, inspiro braccia su, unisco le mani, espiro scendo, mi tuffo. In, distendo la schiena, espiro sinistro dietro e poi destro dietro. E ancora con o senza le ginocchia, scendo il tappetino, espirando, piego i gomiti. Inspiro cobra, rimango un respiro lungo e profondo, espiro cane a faccia in giù. Tre respiri lunghi e profondi qui. Magari inizio a proiettare i talloni verso terra, i glutei verso il cielo. E poi anche qui con due o più passi, mi porto con i piedi in mezzo alle mani, espirando. In, distendo la schiena, es, fronte e ginocchia, utanasana. In, tutto su. Unisco le mani, espiro grande cerchio, mani al cuore, ascolto. Espiro mani lungo i fianchi e ora unisco i piedi e piego le ginocchia e le dita sfiorano nel tappetino per posizione della sedia, utkatasana. se guardo giù mi vedo le dita dei piedi ed espirando scendo in uttanasana. Inspiro, distendo la schiena, espiro, passo destro dietro, passo sinistro dietro, chatturanga piegamento, inspiro, cane a faccia in su, se ho bisogno, faccio ancora cobra. Espiro, rollo sui piedi, cane a faccia in giù. Mi muovo lentamente insieme al respiro, inspiro, destra su al cielo, espiro, ginocchio fronte, passo in mezzo alle mani, ruoto il tallone dietro per guerriero 1. Il piede dietro è a 45 gradi, le anche sono in linea e il bacino è rivolto verso il ginocchio davanti. Se ho bisogno di più spazio, posso spostare verso sinistra, il piede dietro. Inspiro, mi allungo ed espiro, mani a terra, punto dietro, destro dietro, e piegamento, espiro. Inspiro, cane su, espiro cane giù, inspiro sinistra al cielo, vado per guerriero 1, passo in mezzo alle mani, espiro, ruoto dietro, inspiro su le braccia, bacino in linea, inspiro, mi allungo bene verso il cielo ed espirando, mani tornano a terra, sinistra dietro, chatturanga al tappeto, inspiro, cane su, lento, espiro, cane a faccia in giù, tre, respiri qua, se ho bisogno recupero in balasana, inspiro ed espirando con due o più passi, piedi in mezzo alle mani, inspiro, distendo la schiena, espiro fronte e ginocchia, inspiro, piego le ginocchia e sfioro il tappetino con le mani, vengo su per sedia, espiro, distendo le gambe, mani al cuore, e ancora, piego le ginocchia a sedia, inspiro, espiro, scendo uttanasana, inspiro, arda uttanasana, espiro, due passi dietro, inspiro, tavola, e espiro, chatturanga, piegamento, inspiro, cane su, e espiro, cane giù, inspiro, destra su, e espiro, passo in avanti, guerriero uno, sulle braccia mi allungo, e espiro, mani tornano a terra, passo destro dietro, piegamento, espiro, inspiro, cane su, e espiro, cane giù, e espiro, sinistra al cielo, e espiro, passo in mezzo alle mani, guerriero uno, vengo su, e espiro, allungo, e espiro, mani a terra, sinistra dietro, tavola, chatturanga, e espiro, e espiro, urva mukha svanasana, cane su, e espiro, adho mukha svanasana, cane a faccia in giù, rimango, un respiro profondo, e ora, ancora, gamba destra al cielo, inspiro, e espiro, passo destro fra le mani, appoggio il ginocchio dietro questa volta, e mi apro in torsione, apro bene la spalla destra, e piego il gomito destro a cactus, inspiro, sento l'apertura, magari lo sguardo va verso la mano destra, ed espirando torno con la mano a terra, punto dietro, ed istendo tutte e due le gambe, per piramide, solo di passaggio, un respiro, e poi piede destro dietro, inspiro, e se mi va, vini asa, espiro, chatturanga, inspiro, cane su, espiro, cane a faccia in giù, inspiro, sinistra al cielo, espiro, passo in mezzo alle mani, appoggio dietro, appoggio dietro, mi apro in torsione, allineo, anche qui, il bacino, e il ginocchio al tallone, respiro, piego il braccio a cactus, lo sguardo magari in alto, inspiro profondo, ed espirando, ritorno con la mano sinistra a terra, distendo un attimo in piramide, espiro tutto, e inspiro, passo sinistro dietro, se mi va, vini asa, chatturanga, espiro, piego i gomiti, inspiro su, e spiro, cane a faccia in giù, posso fermarmi qui, recuperare, oppure intensifico, e vado con un altro vini asa, chatturanga, espiro, inspiro, cane su, e spiro, cane a faccia in giù, e ora rimango, i miei due o tre respiri, lunghi e profondi, espiro tutto, inspiro, vengo sulla punta dei piedi, e spiro, con due o più passi, piedi in mezzo alle mani, inspiro, distendo, e spiro giù, tanasana, inspiro, piego le ginocchia, mani sfiorano il tappetino, sedia, piego bene le ginocchia, ed espirando, mani al cuore, ascolto, ok, ora, piedi uniti, e ancora, piego le ginocchia per sedia, inspiro, questa volta mani al cuore, controllo le mie ginocchia, devono essere sulla stessa linea, e da lì non si muovono, inspiro, ed espirando, ruoto a destra, e il gomito sinistro, si appoggia, all'esterno della gamba, destra, e qui la tendenza del ginocchio sinistro, è quella di slittare in avanti, io la riporto indietro, le mani premono, la spalla destra, vuole spingersi indietro, e poi lo sguardo va al tappetino, e con controllo stacco il piede sinistro, e un passo dietro, lungo, e appoggio il ginocchio, e mi ritrovo ancora in torsione, stesso allineamento, le mani sono in preghiera, se riesco posso provare a staccare il ginocchio dietro, senza muovere nient'altro, gamba bella attiva, sia quella davanti che quella dietro, e inspirando libero la torsione, vengo su con le braccia, ed espirando, grande cerchio, mani a terra, distendo la gamba davanti, inspiro, e espiro, porto la fronte verso il ginocchio destro, appoggio il tallone dietro, sempre il piede a 45 gradi, inspiro, distendo la schiena, espiro, mani ai fianchi, ginocchio destro morbido, e vengo su, chiudo un po' la posizione, mi sto preparando per la posizione completa, di Parsvottanasana, e quindi posso afferrare i gomiti in questo modo, o se nella mia pratica, unisco le mani nella preghiera posteriore, i palmi rimangono uniti quando scendo, se non viene, allora rimango con la presa dei gomiti, inspiro, allungo, espiro, scendo, e mi fermo a metà, ascolto qui le sensazioni, per un respiro profondo, e se mi va di proseguire, il bacino rimane sempre allineato, ed espirando, scendo con la fronte, verso il ginocchio destro, espiro tutto quanto, piego leggermente il ginocchio davanti, e inspirando, ritorno su, con controllo libero, la mia mudra dietro la schiena, inspiro, braccia su, allungo bene, espiro, grande cerchio, mani a terra, allungo di nuovo un po' la mia posizione, facendo un passettino col piede sinistro dietro, inspiro, espiro, rimango in equilibrio portando il braccio destro al cielo, in questa piramide sull'avampiede dietro, in torsione, inspiro profondo, ed espirando, ritorno con la mano destra a terra, stacco il piede dietro, e piccolo slancio, in guerriero 3, con appoggio delle mani, inspiro, ed espirando, vado a portare il piede sinistro, dietro il destro, i mignolini si toccano, inspiro, ed espirando, scendo con la fronte, verso il ginocchio destro, inspiro, e espiro di nuovo, scendo, inspiro, distendo, espiro, stacco il piede dietro, ma rimango sempre con il ginocchio all'esterno del polpaccio destro, e lentamente con le mani che camminano indietro, mi aiuto, per andarmi a sedere, ed ecco che mi ritrovo in Ardha Matsyendrasana, inspiro, e espiro dalla bocca, e poi ancora, inspiro per allungare tutto verso il cielo, ed espirando, ruoto verso destra, posso abbracciare il ginocchio, oppure andare oltre, con il gomito sinistro, la mano destra dietro d'appoggio, spalle lontane dalle orecchie, su una linea, respiro, premo l'alluce destro al tappetino, ed espirando, ritorno al centro, inspiro, sollevo le braccia, e espiro, mi inchino dall'altro lato, inspiro, ritorno al centro, ed espirando, porto le mani di fronte a me, e con un piccolo slancio, mi ritrovo in Guerriero 3, con appoggio delle mani, un passo sinistro dietro, un passo destro dietro, se mi va, vini asa, oppure ci ritroviamo direttamente in cane giù, se hai bisogno di recuperare, ricordati, balasana, e quando siamo in cane giù, respiriamo, e ora, con due o più passi, piedi in mezzo alle mani, inspiro distendo, espiro uttanasana giù, inspiro tutto su, e espiro mani al cuore, due respiri lunghi e profondi, recupero un attimo, e mi preparo per fare la sequenza dall'altro lato, posizione della sedia, distendo e mani al cuore, inspiro qui, espiro ruoto, ricordo il ginocchio destro, di non lasciarlo scappare in avanti, ma lo riporto indietro, spalla sinistra bella aperta, palmi uniti, con i pollici che cercano il centro del petto, respiro, gambe belle piegate, non oltrepasso la punta dei piedi, inspiro profondo, ed espirando lo sguardo va verso il tappetino, stacco il piede destro, e con controllo, un passo lungo indietro, ginocchio a terra, e mi ritrovo ancora in torsione, stesso allineamento, magari ho bisogno di spingere un po', l'anca sinistra indietro per allinearmi, respiro, e se mi va posso staccare il ginocchio destro da terra, gambe belle attive, espiro tutto, e ispirando libero la torsione, braccia al cielo, allungo, espiro, mani tornano a terra, piramide, distendo tutte e due le gambe, espiro fronte, ginocchio sinistro, appoggio il tallone dietro, inspiro, espiro mani ai fianchi, inspiro su, mi preparo per Parsvottanasana, chiudo un po' la posizione, piede dietro sempre a 45 gradi, inspiro, afferro i gomiti dietro, o mani in preghiera posteriore, come prima, inspiro allungo, ed espirando, ginocchio davanti morbido, e scendo a metà strada, inspiro, e se mi va di proseguire, espiro, continuo a scendere, e la fronte va verso il ginocchio davanti, bacino allineato, e espiro tutto, e ammorbidisco il ginocchio davanti, e inspirando torno su, e libero la mia mudra dietro la schiena, portando le braccia su, inspiro allungo, e espiro, scendo con le mani a terra, riportandomi sull'avampiede dietro, inspiro, e espiro, vado in torsione, in questa piramide allungata, respiro, magari ho bisogno di spingere l'anca sinistra indietro, e espiro, riporto la mano sinistra a terra, distendo la schiena, e piccolo slancio, mi porto in avanti in un guerriero 3, in appoggio, e incrocio destro, dietro sinistro, mignolini si toccano, e espiro, scendo con la testa verso il ginocchio sinistro, lascio andare un attimo tutto giù al tappeto, e poi inspiro, distendo la schiena, libero il piede, ma rimango con il ginocchio destro, all'esterno del polpaccio del piede sinistro, e piano piano scendo, con i glutei al tappetino, ritrovandomi in Ardha Mazzindrasana, poi inspiro, distendo tutto, ed espirando, ruoto, a sinistra, abbraccio il ginocchio, oppure scavalco con il gomito destro, e qui ascolto e respiro, sento dove va il mio respiro in questa torsione, il piede sinistro è bene aderente al tappetino, inspiro lentamente e torno al centro, allungo, e spiro, mi inchino a destra, inspiro, ritorno al centro, allungo ancora, ed espirando, piccolo slancio per liberare la gamba destra, che si distende dietro, e passo lungo sull'avampiede, il sinistro segue, raggiunge il destro dietro in cane giù, e vini asa, e ci troviamo poi in cane a faccia in giù, tre respiri lunghi e profondi, espiro, inspiro, inspiro, sulla punta dei piedi e con due o più passi, piedi in mezzo alle mani, inspiro, distendo, espiro tutto giù, tanasana, inspiro, vengo su, nella posizione della sedia, un respiro qui, ed espirando, mani al cuore, angeli mudra, ascolto, un passo sinistro dietro, gambe larghe, gli alluci si guardano, i talloni sono leggermente aperti verso l'esterno, mani ai fianchi, inspiro, allungo, ed espirando, scendo con la testa verso terra, inspiro, distendo, ed espirando, se riesco, con controllo, piego i gomiti, cammino leggermente più indietro, e prasarita, padottanasana, ora di nuovo sui polpastrelli, inspiro, ed espirando, cammino con le mani verso il piede destro, la mano sinistra si appoggia, se riesco, arrivo ad appoggiare tutto l'avambraccio, se no, rimango lì, e da qui, se mi va, posso provare ad allungare il braccio destro, al cielo, e lo sguardo decidi dove direzionarlo, se di fronte o verso la mano destra, un respiro profondo, ed espirando il ritorno, distendo il braccio sinistro, piano piano cammino di nuovo al centro, un respiro qui, e espiro scendo di nuovo in prasarita, sento l'allungamento, la forza di gravità che mi tira giù, inspiro, distendo la schiena sui polpastrelli, ed espirando questa volta, cammino a sinistra, mano, o avambraccio destro, appoggiata a terra, e trovata la mia posizione, distendo il braccio sinistro al cielo, rispiro, ricorda di portare il peso del corpo di più verso le punte dei piedi, ma controllando l'equilibrio, inspiro, espiro, mano sinistra, torna vicino al piede, braccio destro si distende, ritorna al centro, inspiro, espiro, punta, tallone, piano piano chiudo i piedi, trovando la giusta larghezza per malasana, questa volta ho i gomiti dentro che possono aiutarmi ad aprire le anche, spiro, e espiro, inspiro ancora una volta, sollevo le braccia al cielo, forza, con le gambe, con le anche, ed espirando lentamente, porto i glutei sul tappetino, mi preparo per l'ultimo asana, agnistanvasana, nella posizione completa ho una tibia sopra l'altra, piedi a martello, ma se questo non mi viene, non importa, posso tenere le gambe incrociate, nella posizione semplice, quindi inizio con la destra sopra la sinistra, oppure la destra davanti la sinistra, inspiro, sollevo le braccia, e espiro, ruoto a destra, la posa del ceppo di fuoco, siamo abituati a sentirla come posizione del doppio piccione forse, ma viene tradotta anche in questo modo, e oggi mi sembra molto più indicato, un respiro qui, e poi espirando, mi inclino con la spalla sinistra al piede destro, e il braccio destro si allunga lateralmente, se ho le gambe incrociate è la stessa cosa, e vado, bene, trovo la mia posizione, e respiro, ho l'avambraccio sinistro appoggiato sulla gamba destra, lentamente porto il braccio destro ad incrociarsi davanti al sinistro, qui allungo un attimo, magari mi fletto in avanti, e poi rimanendo in questo incrocio, vengo su con le braccia, e le mani si uniscono nella posizione della candelina, respiro, allungo bene, ed espirando lentamente lascio andare, sollevo la gamba destra, e cambio, faccio la stessa cosa, questa volta con la sinistra sopra, o la sinistra davanti, se ho le gambe incrociate, respiro e ascolto un attimo qui, in questa posizione, in Agnistanvasana, e mi preparo per andare in torsione, inspiro braccia su, e espiro ruota sinistra, un lungo respiro qui, e poi espirando, piego il braccio destro, appoggiando l'avambraccio sulla gamba, e mi fletto lateralmente, portando il braccio sinistro oltre la testa, inspiro, espiro il braccio sinistro, si incrocia davanti al destro, e qui mi muovo un attimo liberamente, magari curvo bene la schiena, allontano le scapole, mi stiracchio un po', e inspirando vengo su con le braccia incrociate, e questa volta candelina, con la mano, il polso destro davanti al sinistro, il mio busto oscilla imitando il movimento della fiamma, della candela che ho vicino, e lentamente sciolgo la posizione, muovo un po' le spalle, le ascolto, e sono pronta per Shavasana, se ho freddo mi copro, mi distendo al tappetino, srotolando la colonna molto lentamente, a metà strada afferro la testa che si abbandona nelle mie mani, e la accompagno al tappetino, allungando bene la zona cervicale, le mani spingono un attimo sulle cosce, distendo tutto il corpo, stiro bene, e poi lascio andare le braccia lungo i lati del corpo, piedi abbandonati, viso rilassato, e rimaniamo solo un minutino in Shavasana, se hai bisogno di più tempo, puoi stoppare il video. Intanto rilassa tutto quanto, il nostro canale è un po' di più tempo, piano piano mi prepara a tornare muovendo dolcemente i piedi e le mani aprendo e chiudendo i pugni porto le ginocchia al petto in un abbraccio ed ondolo a destra e sinistra per portarmi su un fianco in posizione fetale e lentamente tornare seduta a gambe incrociate. Ho gli occhi ancora chiusi, respirando ringrazio la pratica dello yoga e il tempo che ho avuto a disposizione, inspiro ancora e lascio andare dalla bocca, unisco le mani al cuore e posso riaprire i miei occhi. Io vi ringrazio per aver praticato con me oggi e alla prossima. Namaste